Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Oggi è il 24 dicembre e credo che molti di voi siano impegnati in quella che è la più importante tradizione di questi giorni, cioè preparare la cena di Natale del 24 o il pranzo del 25, a seconda di quale sia la vostra tradizione. È un evento importante e quindi, come ogni anno, anche il canale si piega a questa tradizione, perché, come tradizione della Biblioteca di Alessandria, il 24 dicembre la pillola, ora peristoria come nel caso di quest'anno, è dedicata a questioni mangerecce e, in particolare, dopo due anni in cui abbiamo raccontato la storia di grandi cuochi, delle loro vite travagliate, delle loro invenzioni culinarie, le trovate ovviamente in descrizione della playlist, quest'anno ci dedichiamo a qualcosa di leggermente diverso. Cioè raccontiamo la storia di Pellegrino Artusi, italianissimo, anzi in realtà nato nelle legazioni pontifice, ma questo è un altro paio di maniche che non fu cuoco, se non ovviamente dilettante, ma che fu autore di uno dei più famosi libri di cucina della storia, chiamato La scienza in cucina, l'arte di mangiare bene. Un libro che ancora oggi non solo viene letto e ristampato a distanza di più di cent'anni dalla prima pubblicazione, ma che è ancora veramente un esempio di come si fa un libro di cucina e soprattutto una gigantesca raccolta di opere culinarie provenienti da tutta la penisola. Insieme ad Antonella Romano, che ringrazio tantissimo per il materiale, abbiamo però deciso di raccontarvi qualcosa in più, cioè di raccontarvi la sua storia e di capire perché quest'uomo, che ripeto cuoco non era, decise di raccogliere questo libro di cucina così famoso. Partiamo dall'inizio. Il nostro Pellegrino Artusi nacque nel 1820 a Forlimpopoli, all'epoca legazione di Forlì nello stato pontificio, che ci fa capire anche veramente quanto tempo sia passato. La sua non era una famiglia di cuochi, era una famiglia della piccola borghesia, dei commercianti di stoffe, una famiglia che aveva varie particolarità, tra cui quella di non avere particolare fantasia e soprattutto di non essere scaramantici. Se pensate che Artusi Pellegrino nacque nel 1820, nel 1814 era già nato un fratello a cui era stato dato quel nome, che poi purtroppo, come tanti bambini dell'epoca, era morto in fasce, e nel 1819 ad una sorella era stato dato il nome di Pellegrina. Ripeto, poca fantasia, ma soprattutto nessuna scaramanzia. Il nostro, pur essendo probabilmente appassionato già di cucina da giovane, in realtà farà studi completamente diversi, verrà mandato in seminario, qui imparerà come si faceva all'epoca se veniva mandato in seminario ovviamente per poter studiare, poi tornerà a lavorare al commercio di famiglia. Solo quando aveva 30 anni deciderà di lasciare Forlimpopoli, e lo farà purtroppo in seguito a un evento terribile. Nel 1851, infatti, la città fu attaccata da un famosissimo brigante dell'epoca, soprannominato Il Passatore, il quale piombò in città in una sera in cui buona parte dei più ricchi si erano riuniti nel teatro comunale per assistere a una rappresentazione. Il teatro venne circondato, gli uomini vennero imprigionati, costretti a tornare a casa a prendere il denaro e i gioielli per poter pagare un riscatto a tutta la famiglia. La famiglia Artusi non si trovava in quel momento a teatro, ma un loro amico venne costretto ad andare a suonare alla loro porta per permettere ai briganti di entrare. I briganti però, oltre a derubare la famiglia, violentarono la sorella di Pellegrino, Gertrude, la quale morirà, impazzierà per questo avvenimento, verrà poi rinchiusa in un ospedale psichiatrico e morirà di lì a qualche anno. Pellegrino però a questo punto decise di lasciare Forlimpopoli, si trasferì dalla zona di Forlì verso la Toscana e qui tornò ad aprire un negozio di stoffe che divenne peraltro sempre più grande, sempre più ricco, pare che il nostro avesse decisamente il fiuto per gli affari, e alla fine gli permise di ritirarsi in pensione con un bel gruzzoletto. Una volta in pensione, dato che non si era sposato, non aveva avuto figli e, ripeto, era divenuto decisamente ricco, decise di dedicarsi a quelle che erano le sue due grandi passioni, cioè la scrittura da una parte e la cucina dall'altra. Per la prima cosa non partì esattamente benissimo, perché schisse due opere letterarie dedicate all'analisi di autori, tra cui una dedicata a Ugo Foscolo, che ebbero una pessima fortuna, diciamolo chiaramente. Cercò di venderle in giro, di trovare un editore che gliele pubblicasse, ma diciamo che forse non era esattamente quello il suo mestiere, tanto che oggi sono praticamente perdute. L'altra sua passione, invece, era decisamente più funzionale, perché dopo aver costruito questa villa in cui andare a vivere e aver preso con sé due aiutanti, un uomo e una donna, che diventeranno poi anche i suoi collaboratori in cucina, aveva iniziato a testare tutta una serie di ricette. Prima le ricette che lui conosceva, poi le ricette che gli erano stati portati dai suoi aiutanti, e poi progressivamente sempre più ricette, alcune che gli venivano mandate, altre che scopriva lui stesso, altre che andava letteralmente a chiedere di ristorante in ristorante, di pasticceria in pasticceria. La sua era una passione strepitosa, e non solo raccoglieva le ricette, cosa già incredibile, perché ci permese di raccogliere tantissime ricette di piatti tipici veramente da tutta la penisola, dalla Friuli-Verezia Giulia, Piemonte, l'Italia centrale, quella meridionale, non solo raccoglieva queste ricette, ma raccoglieva anche tutta una serie di aneddoti ad essere gati, che venivano poi trascritti, segnati da parte e raccolti. Pare che fosse assolutamente molto meticoloso, perché una volta che si era fatto dire come preparare certi piatti, andava a casa e iniziava a provarli. Talvolta preparavano i piatti e li provavano fra di loro, talvolta invitavano ospiti, abbiamo tutta una serie di racconti molto gustosi su queste cose, che venivano sostanzialmente utilizzati come cavie. Ad esempio abbiamo un racconto di un amico che era stato invitato e si trovò ad assaggiare delle banane col prosciutto. Ora, melone e prosciutto l'ho già sentito, ananas, kiwi e prosciutto, ma le banane in effetti no. E c'è da dire che probabilmente la ricetta non riuscì così bene, tant'è che nel libro poi non venne messa. Ad un certo punto però decise che tutte queste sue conoscenze potevano essere racchiuse in un libro, e iniziò quindi a scrivere questa sua opera. Un'opera che non solo era un libro di cucina, ripeto, raccogliendo tutte le ricette, ma che era anche un libro di aneddoti, perché per tante ricette iniziò a raccontare proprio tutte quelle storie che erano state raccontate a lui. Ad esempio, raccontò di conoscere il risotto alla sbirraglia, che era fatto usando il riso più della carne di un pollo, che, perché così gli era stato raccontato, veniva preparato quando dei poliziotti arrivavano presso una locanda, prendevano un pollo, lo uccidevano e chiedevano alla locandiera di farsi preparare il risotto con quello. Sono ovviamente tutti i racconti, ma che rendono il libro molto particolare. Il libro, quando fu preparato, in realtà inizialmente non ebbe un grosso successo, diciamolo chiaramente. Cercò di portarlo a qualche editore, molti lo respinsero. Addirittura i primi che lo lessero lasciarono delle recensioni pessime, dicendo chiaramente che il libro era una cozzaglia di informazioni inutili, che non era paragonabile a un libro serio, insomma, che non avrebbe fatto molta fortuna. Le prime stampe furono quindi molto piccole, piccoli lotti di libri, che peraltro lo stesso Artusi, che invece in questo libro ci credeva parecchio, cercò di piazzare tra amici e parenti, progressivamente facendo circolare sempre di più il libro. Tra l'altro, in questa fase c'è anche, diciamo, un evento molto spiacevole legato alla sua città di origine, perché ad un certo punto il comune di Forlimpopoli chiese ad Artusi di mandargli alcune opere da utilizzare per una specie di pesca di beneficenza. E Artusi, che non aveva più le sue opere serie, perché ormai non aveva più il libro a disposizione, mandò questo nuovo libro di ricette. Libro di ricette che qualcuno in effetti vinse, ma che la sua grande maggioranza preferì rivendere al vicino tabaccaio in cambio di denaro. Ovviamente il tabaccaio i libri non li vendeva, ma utilizzava le pagine dopo averle strappate per avvolgerci il materiale, soprattutto il tabacco. E quindi, insomma, Artusi probabilmente pensava che quel libro meritasse maggiore fortuna. Progressivamente, però, il libro di fortuna iniziò ad averne. Iniziò ad averne, iniziò a circolare e iniziò ad essere apprezzato. Un po' per lo stile, molto leggero. Un po' perché era un libro decisamente molto, molto, molto pratico. Perché molti cuochi dell'epoca scrivevano dei libri descrivendo le loro ricette, talvolta anche molto difficili da preparare, ma lo facevano quasi come se stessero componendo dei poemi, cosa che lo stesso Artusi fece notare nella sua introduzione, dicendo che molti dei libri di ricette dell'epoca o si rifacevano a cucine ormai dimenticate del passato, oppure mancavano delle basi, cioè mancavano molto spesso, ad esempio, delle dosi in cui aggiungere le varie componenti e quindi risultavano del tutto inutili. Il suo libro, invece, ripeto, molto pratico, molto preciso, fatto tutto da ricette che lui stesso diceva di aver testato personalmente, progressivamente iniziò a diffondersi. Persone da tutta Italia iniziarono a leggerlo, iniziarono a mandare ad Artusi le loro ricette, dolci, zuppe, varie cose, e iniziarono ad essere raccolte nel libro. Poi Artusi aveva ovviamente i suoi gusti, molte ricette non vennero inserite, mancano alcune ricette della tradizione, ad esempio il bollito misto piemontese non lo inserì perché non amava molto i bolliti, tanto per fare un esempio. Altre ricette hanno dei commenti abbastanza sprezzanti, alcune volte cercò di aggiungere delle ricette straniere e si sbagliò con i nomi, non conoscendo ad esempio l'inglese, però in generale riuscì a raccogliere veramente un grandissimo numero di ricette e continuò a lavorare a queste versioni del suo libro veramente quasi fino agli ultimissimi anni. Alla fine, alla veneranda età di 91 anni, si spense, ma da allora il suo libro, La scienza in cucina, l'arte di mangiare bene, non solo non ha smesso di diffondersi, lo troverete ancora pubblicato adesso, ma è diventato praticamente proverbiale. La cosa curiosa è che, non avendo, ripeto, figli, decise di lasciare tutti i diritti per quel libro e altre delle sue sostanze proprio ai suoi due aiutanti, che dopo tutto lo avevano aiutato a creare quel libro. Quindi, se oggi conoscete tante ricette della cucina italiana, lo si deve anche a Pellegrino Artusi e al fatto che i suoi libri sui poeti non andarono bene, ma quello sulla cucina ci andò e come. Quindi, io ringrazio ancora una volta Antonella Romano per questa pidola che peraltro mi aveva mandato dopo quella di Natale dell'anno scorso, quindi capite quanto tempo è rimasta in soffitta pronta a essere usata. Direi di brindare a tutti voi, ma dato che so già che in questi giorni brinderete tantissimo e mangerete tantissimo, diciamo, anche qua potremmo iniziare una tradizione, direi di brindare con del buon digestivo che direi che può servire a tutti. Alla vostra e a quella dei vostri stomaci. A presto!